niente non è cambiato niente perché scamacca prima non ha segnato a fatti sta 12 camacca simeone a otto baracca 8 a capraria 12 però paro per sassuolo perché non c'è piaciuto proprio il la sverona prima prende il sassuolo e modifico qualche cosa questo Grazie. 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 rigore efficace la copertura della ripresa che si salva ringa lucidar verona vuole seguire le sue orme vediamo cosa fa ora stimo talmente tanto i brevucci che voglio giocare come lui ma c'è attenzione perché questo tipo parla solo con te non lascia perde che ha tirato così 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 intanto l'ha presa e l'ha tirata discretamente male però ferrari perché ti giri di spalle di sicurezza berardi ti odio cazzo ma che lo faccio gioca faio berardi solo perché c'ha 82 e non si sa dove ce l'ha si 82 per taglio dei capelli perché c'ha 82 mi cambia i capelli voglio vedere se cambia il giocatore eh così è vero mortacci tua mortacci sembrava potenzialmente interessante sembra bere tu so metti sulla fascia nooo oddio ammassa che ha presa ma solo con te che hanno sti palloni dai fammogli un gol o vedi o vedi così così epi così epi lascia perdere che c'hai un portierone non bene quindi pensore attenzione grande intervento difensivo dai che hanno trovato armato per segnare cazzo attende il momento giusto per scaricare il pallone hanno l'occasione per passare scamacca a quota 13 Gianluca 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 di sinistro io di destra di sinistro come ibra ai tempi d'oro Gianluca Gianluca Caprari un maledetto non fischia non fischia che c'è Jack non fischia che c'è Jack guarda questo assolutamente da cancellare sto babbero dopo devo far vedere in gruppo che mai si è iscritto su tiktok a parte il video dove ho mandato uno che è depitolo sti cazzi ma come caccio di rigore non ho visto niente c'è sta nei mani allora eh guardate rimanere guardate rimanere chi tira veloso 73 o fanno dire a Simeone scegliete Simeone risultato che potrebbe tornare in parità palla che colpisce la traversa e torna in campo sembra fatta tostra se pure te non dovresti esercitare però vabbè meglio che io mi va mi sbaglio tre rigori su tre sbagliate 45 minuti il sassuolo è avanti a riposo padroni di casa avanti che cazzo mo di tiro centrala tutto pronto l'arbitro da inizio la seconda metà di gara tre rigori su tre rigori di merda Simeone è il primo che è mobile che immobili rigori ne sbagliamo anche mamma mia consigli attesi quanto è forte questo ma magari viene a Roma magari era pure nostro era che cazzo si trucava in questi giocatori non aspettano manco sei mesi li vendiamo su hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento attento in questa tragetta recupera palla si ripartirà con un fallo laterale legge bene la situazione di conquista palla che cazzo si tratta ma per che capisce tutto il difensore ottimo intervento ma stardo oh ferma l'avversario palla in fallo laterale un altro match che nessuno vuole perdersi e ne arrivo qui su di ATV non vedo davvero l'ora sono due squadre che giocano un calcio veloce votato all'attacco sono sicuro che ci divertiremo vediamo qui un'ottima posizione eh no il mio consigli prende tutto oggi tifosi del sassuolo che se la sono vista davvero brutta nell'occasione di prima e continuano a incitare la loro squadra per evitare calizzazione perché è così male tanto pure questo è da pareggio ohia tifo Giovanni Simeone Giovanni Simeone Barak hanno il pallone che può valere la parità se si fa da un culo così Barak a quota 9 io devo fare qualcosa qui in girano ancora ho sbagliato peso avversari di domande grazie 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 e serve a qualcosa allora mortacci de tua de tua qualche cosa servirai nella vita era messa nella porta sguarnita può solo ringraziare i difensori e il portiere no ma ti c'è pagato perché non ci fanno mai stiamo troppo concentrati sul campo ce ne stanno un po' ah adesso perfetto ad alto rischio in area giurice sta diventando veramente assaggio malcalibrato però è per dio vediamo cosa fa ora può segnare da lì respinge corto falla ancora in gioco risolve il problema manca poco può essere l'ultima chance per il pari Giovanni Simeone occhiamo a questo ma rega ma questo andiamo ma rega come Polli proprio come Polli fermo Ferrari sempre fa i danni il capitano fa i danni sempre guarda che ha fatto guarda 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 sentisi ancora tre minuti da giocare manca poco tempo hanno un'ultima occasione per vincerla hanno difeso bene qui il tecnico può essere davvero soddisfatto avrà a te non c'è situazione di vantaggio no mamma aprire il sassuolo ragazzi è del regno non si richiappano più queste cazzo le squadre parter Napoli che pare è stato un prevedo ma fallo di che però io io non li capisco 2 a 2 partita del merda pareggio sedicesima contro quattro dicesima ma che poteva essere grazie a tutti